Sì, sta andando bene, non benissimo, non è più come nel 2007-2008 dove la crescita era due cifre, però anche quando le cose vanno male la crescita c'è e questo è importante. Il mercato continua a pensare che gli ETF siano in assoluto tra i prodotti finanziari il top della gamma. Abbiamo lanciato l'oro fisico con copertura del rischio di cambio sul dollaro, il ticker GBS e lo si trova in borsa italiana, ha delle caratteristiche importanti come il fatto che la copertura del cambio viene su base giornaliera, il cambio è indicizzato ogni giorno da un indice indipendente in modo tale che si eviti il tracking error e permette all'investitore di essere con una posizione lunga sull'oro e lunga sull'euro, cioè giocando short sul dollaro. Prima di questo avevamo degli investitori che ci chiedevano se era possibile tecnicamente coprirsi dalla caduta del dollaro, questa è la nostra risposta, adesso gli investitori finalmente hanno GBS in borsa italiana.